E anche a Roma si è celebrata oggi la quarta giornata nazionale per la sicurezza nei cantieri promossa da Federarchitetti, filo conduttore ai corsi di formazione sulla sicurezza. Ma sentiamo tutti i particolari da Nazario Basili. La formazione come antidoto contro gli infortuni sul lavoro. La quarta giornata nazionale per la sicurezza nei cantieri promossa da Federarchitetti che si è tenuta in nove città d'Italia, tra cui Roma, poi nell'accento sul tema dei corsi di formazione sulla sicurezza. Nel 2011 sono state 920 le persone che hanno perso la vita sul posto di lavoro nel nostro paese, 67 nel Lazio. Secondo le proiezioni territoriali dell'INAIL relative al periodo gennaio-settembre dello scorso anno, nella nostra regione gli incidenti sono stati 34.747, di cui 45 mortali, con una leggera flessione rispetto all'anno precedente. La causa predominante è proprio perché non vengono rispettate le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e poi pure perché manca quella figura preposta a far sì che ci sia il controllo al rispetto delle norme. Architetti e ingegneri sono responsabili del rispetto delle misure di prevenzione. Il personale impiegato nei cantieri deve seguire dei corsi di formazione durante l'orario di lavoro, la cui frequenza deve essere certificata. Con il rilascio degli attestati si è innescato un meccanismo perverso, ovvero un mercato ignobile di vendita di attestati online. Questi attestati vanno verificati e va verificato soprattutto che la formazione sia stata fatta realmente. Intanto solo nel Lazio continua a morire di lavoro più di una persona a settimana. Grazie. Grazie. Grazie.